Mussolente, le immagini che state vedendo sono state inviate alla nostra redazione da un cittadino indignato dalla situazione in cui versa il Parco della Vittoria, l'area verde comunale in pieno centro paese. Il chiosco sempre chiuso, come abbiamo documentato anche con le nostre telecamere, sporcizie e cartaccio ovunque, il prato incolto e le siepi abbandonate. Al parco è vietato entrare con i mezzi a motore, ma in più occasioni, scrive il nostro telespettatore, ragazzini con gli scooter non rispettano il cartello. E alla sera è frequentato da individui, dice, poco raccomandabili. Mancano i controlli, denuncia il misquilese, che chiede all'amministrazione comunale come intenda porre rimedi a questa situazione di assoluto degrado, a pochi metri dalla storica Villa Negri-Piovene.